ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è uscito stasera su nazionale allora è uscito un ambo secco non ha dato granché nelle altre qualche ambate basta gli altri programmi ha dato poco però questa ruota nazionale ha dato l'ambo secco e l'ho già digitata io 66 30 era la precedente 25 53 20 per l'ultima 54 63 23 79 89 ha dato il 73 23 ambo secco qui 73 23 73 23 ambo secco voglio ricordare ancora una volta che il mio programma e 12 ambi secchi di john è praticamente la versione ampliata del programma boss e convincente che sono solo quattro ambi cioè i primi quattro quindi che ha l'altro programma comunque giocatore si ha giocato prenazionale ha vinto lo stesso perché sono i primi quattro ambi 73 23 ci dovrebbe essere per forza e che dire sono contento del mio programma dei miei programmi e comunque gli altri programmi nei terni di john che è simile ha dato anche qui 73 23 peccato che non ha dato 64 8 54 e niente poteva essere qualcosina in più però ambo in tersina qui e quindi nell'altro mio programma i 12 ambi secchi che questo questo programma dato l'ambus secco 73 23 nel mio programma invece del 8 monster dog ha dato due numeri no si due numeri anche qui peccato che il 38 64 9 55 niente dato 54 perché poteva essere un terno su 6 peccato però niente comunque i miei programmi sono sono buoni sono contento e niente ci sentiamo prossimo video devo ancora verificare altri programmi del 10 lotto e gli altri e forse farò altri video e per adesso è tutto ci sentiamo prossimi video vi lascio il link sotto i miei programmi per chi li volesse acquistare niente se avete cliccata sul like iscrivetevi sempre di più mi fa piacere ci sentiamo prossimo video per adesso è tutto vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti grazie a tutti ciao